Buongiorno, benvenuti a questa serie stampa di oggi, domenica 24 maggio. Sono un po' in ritardo, ma andiamo subito sui temi della giornata. Il titolo del giornale unico del virus è Piazze piene, come se la cosa dovesse essere sconvolgente. Che cosa volete che si faccia il sabato e la domenica fino a quando non ci recludono in casa con un decreto governativo totalmente liberale come è stato quello del lockdown? Non riesco a capire perché le piazze non debbano essere piene e non riesco a capire come ci si autoregoli per andare nelle piazze. I sindaci sceriffi, quelli che fanno le ordinanze per i residenti. Toc toc! Avete presente a chi mi riferisco? Al fenomeno che mi insulta su internet e poi c'è il cognatino, il cognatino, capo di gabinette, un sacco di amici a Mediaset. Insomma, i sindaci sceriffi esistono in tutta Italia, ma non sono tutti sceriffi. Io ho letto oggi l'intervista a questo sindaco, si chiama Settimonizzi, Settimonizzi, sindaco di Olbia. Anche lui è un medico, mi sembra di aver capito dal suo curriculum che c'è scritto su Corriere della Sera, che dice la cosa più semplice del mondo, che dovrebbe dire un sindaco che è a disposizione dei cittadini, perché pagato dai cittadini, o pagato come ospedale ero, o pagato come sindaco poco conta, ma questa è una differenza che ovviamente la grande rete di internet riesce a cogliere meglio di tanti altri. Settimonizzi dice una cosa banale, e cioè nelle spiagge libere di Olbia, che sono una cosa straordinaria, i cittadini saranno responsabili nello stare distanziati e seguire le leggi, e se non dovesse seguire le leggi qualcuno potrebbe chiamare la polizia municipale, ma non la militarizzazione delle spiagge, non questa assurda condizione in cui ci troviamo, poi sapete come la penso io, mi ha scritto un grande imprenditore, amico mio, toscano, oggi, mi ha scritto una cosa molto semplice, ma ti sei chiesto, toc toc, mi ha fatto a me, per quale motivo? Dal 4 marzo all'11, fino al 4 marzo c'erano, non so, 129 mila persone contagiate, c'erano 8 mila in rianimazione e dal 4 marzo in poi i numeri sono drasticamente cambiati e noi oggi stiamo comportandoci come se ci fosse ancora quell'epidemia con quella virulenza di marzo, per quale motivo ci comportiamo così? Beh, questo i virologi non ve lo spiegano, perché non lo sanno, banalmente non lo sanno, non hanno capito assolutamente nulla di questa malattia, quello che ha capito di questa malattia sono gli ospedalieri, i clinici, quelli che stanno in ospedale, quelli che cercano di curare le persone, di salvarle, che evidentemente oggi hanno protocolli e cure molto superiori, molto migliori rispetto a due mesi fa, ci sta, visto che questa è una malattia completamente nuova, i virologi vanno in televisione e si denunciano tra di loro, i clinici stanno in ospedale e salvano le vite, è una piccola differenza, sempre i medici sono, gli uni lavorano, gli altri chiacchierano. Bene, Gervasoni, rischio zero non esiste, fate ripartire i consumi, sono completamente d'accordo con il professore Gervasoni che scrive sul giornale, come Derita oggi ricorda sul Corriere della Sera come il rischio è che si passi dalla paura alla rabbia, la gente si incazza tra un po', ed è talmente evidente che questi politici e questi sindaci sceriffi tra un po' cavalcheranno, io sono sicuro, l'arrabbiatura della gente, prima li chiudono, prima gli esercizi commerciali li controllano con la polizia municipale come se fossero dei delinquenti, ricordatevi, ricordatevelo, che non è che è tutto a caso, tu non puoi prima chiudere, controllare, fare un mazzo così, applicare le multe, creare i miti del terrorismo, i runner o i ragazzi che vanno allo spizio e poi quando c'è la crisi economica dire, oh c'è la crisi economica, come mai è arrivata la crisi economica? Qualcuno se lo chiederà come mai, perché ci sono questi cretini che pensano che siamo in guerra, non siamo in guerra, come spero che qualcuno a Quarta Repubblica domani ce lo spieghi e oggi Derita ha spiegato benissimo sul Corriere della Sera, vabbè il fatto con la solita litania che è tutta la colpa di Gallera, com'è la Gallera degli Orrori, oggi con quei giochi di parole che riescono a bambini piccoli tipici diciamo di quelli che hanno dei problemi, oggi il fatto, gli scienziati fermare la Ressa, mi sembra che sia il messaggero che titola così, con ovviamente Pregliasco e tutti gli altri scienziati che parlano sui giornali, però ragazzi sapete cosa possiamo fare per fermare la Ressa? Fermiamo proprio la vita, cioè rimaniamo tutti a casa perché il concetto di Ressa, non c'è bisogno di leggere Elias Canetti, ma il concetto di Ressa è un concetto che mi ha spiegato mio figlio, papà se io voglio andare in piazza, come faccio a sapere quante persone stanno andando in piazza in quel momento? Che faccio? Pensando che ci sia troppa gente e non ci vado e se tutti pensassero come me non ci andrebbe nessuno, oppure se tutti pensano come me che non ci sarà nessuno, ci andranno tutti e ci sarà la Ressa. Qual è l'autoregolamentazione divina per la quale uno può sapere di costituire o no una Ressa? Questo dovremmo chiederlo agli scienziati, ma io so la loro risposta, non andate in piazza, non andate in mare, non andate a farvi il bagno, non andate in spiaggia, a meno che non ci possano andare loro, perché loro in realtà possono uscire con le loro macchinette perché loro sono gli scienziati che devono andare in televisione. A scuola con le mascherine, un'altra stronzata pazzesca, scuola con le mascherine, cioè già stiamo terrorizzando la riapertura delle scuole, uno dei pochi paesi che ce l'ha ancora chiuse e immagina nel futuro una scuola con le mascherine. Io dico, ragazzi io non potevo credere quello che sta succedendo sulle spiagge con la polizia in Liguria che non ti fa sdraiare sulla spiazza, ma ovviamente la polizia non fa che rispettare e immagino delle leggi che qualcuno fa, non è che se le inventano loro. Quindi siamo in un delirio talmente folle per il quale tra un po' il misto di mancanza di soldi, mancanza di prospettiva, mancanza di lavoro, cose che sta dicendo De Rita, e soprattutto mancanza di libertà, cioè l'idea di mettersi in una spiaggia libera, libera, e potersi sdraiare, non puoi neanche farlo, e rischi di chiedere il permesso per fare il bagno, qua non arrivano i forconi, qua arrivano i calci nel sedere a questa classe dirigente. Spero che capiscano i nostri vigili urbani, la nostra polizia municipale, la nostra polizia di Stato, i nostri carabinieri, capiscano che loro devono far rispettare delle leggi che ovviamente non hanno fatto loro, ma attenzione, fatelo con intelligenza, perché purtroppo quella gente, con chi se la prende, se la prende purtroppo con quello che fa rispettare la legge, non con chi la legge l'ha fatta, ed è una roba che sento proprio fisso nell'aria, e poi leggi l'Avvenire. Beh, l'Avvenire è fantastico, il vero giornale catto grillo comunista, ma grillo, catto grillino, dai su, non è più catto comunista, catto grillino, l'Avvenire è quel giornale che finché il Kraut, ieri in un'intervista meravigliosa, ha definito i cretini col sorriso per cui tutto andrà bene, non andrà tutto bene, sta andando tutto male, ma comunque l'Avvenire è vedere le città e i laghi in cui sono ricomparse le anatre, rivedere i cervi nelle città, rivedere cos'altro, rivedere che il bello della natura sotto casa, rivedere il bello della natura sotto casa, pronta a riprendersi gli spazi, l'aria inquinata, addirittura sarebbe, studiatelo scienziati perché probabilmente l'aria inquinata è correlata alle morti del virus, alle morti col covid, insomma in questa specie di idea bucolica dei catto grillini dell'Avvenire è bellissimo vedere la natura che si riappropria degli spazi che noi gli abbiamo rubato, puttanate, l'uomo grazie a sua capacità di dominare relativamente perché la natura è più forte dell'uomo, la natura ha costruito delle strade fantastiche, ha costruito delle case fantastiche, ha fatto l'aria condizionata per cui questi signori dell'Avvenire possono stare nelle loro stanzette a scrivere queste cose in maniera magnifica, ha inventato la tecnologia, ha inventato i computer, ha inventato i chip, ha inventato le tecnologie perché questi non muoiono a 40 anni come quando la natura si appropriava delle nostre città, la natura che si appropriava delle città è la morte della nostra civiltà, chiaro, è la morte della nostra civiltà, a vedere questa città Roma in cui non si taglia l'erba, in cui la natura e i cinghiali cari amici dell'Avvenire hanno ripreso molto prima del covid la strada della nostra esistenza è il fallimento della nostra civiltà, ognuno la pensi come gli pare ma l'Avvenire catto grillino ormai sappiamo bene come la pensa, bosco di Capodimonte, la natura, 9 km quadri che si dovrebbe prendere la città, sapete come funziona? Funziona in una maniera straordinaria, leggo sul mattino, il direttore voleva usare una guardiania privata che peraltro già usava per gestire i propri protocolli covid all'interno di questo parco di 9 km quadrati, i sindacati non vogliono e allora siccome il direttore è una persona che rispetta l'edizione deve chiudere il parco, tutti contro il direttore che chiude il parco, in realtà è come dice benissimo il mattino di oggi, un fondo del mattino di oggi, questa assurda situazione per cui i sindacati sono quelli che alla fine governano nel settore pubblico italiano, non solo tra l'altro i sindacati si arrabbiano, direttore Museino non so, si arrabbiano con il commissario straniero che sta facendo un lavoro meraviglioso a Capodimonte, se la prendono con lui, sapete perché? perché ha lavorato quando era in malattia, cioè si era slogato una gamba, non so cosa gli ha fatto il direttore di Capodimonte e quel giorni lavorava e se la prendono con lui perché lavorava, guardate che la stessa identica cosa è avvenuta con il direttore, poi candidato mi sembra della sinistra in Emilia Romagna, della reggia di Caserta tutti i sindacati se la prendevano con lui perché lavorava troppo, ecco questa è l'Italia bellissima dell'avvenire della decrescita fedice, di questi sindacati che potrebbero benissimo andare a braccetto con gli editorialisti dell'avvenire questo è il mondo, io metterei tutti insieme sindaci sceriffi, sindacati di Capodimonte sindacati anche quelli che vogliono gestire le aziende al posto degli amministratori e giornalisti decrescisti dell'avvenire mettetevi tutti insieme e fatevi una bellissima passeggiata nella natura che si sta riappropriando finalmente dei suoi spazi intanto il governo si spacca sulla questione autostrada e lì la cosa è molto semplice perché il PD stava facendo una trattativa con autostrade e nella trattativa c'era anche un prestito con la garanzia dello Stato mi tolgo questa bellissima giacca adesso sto facendo il caldo di un attivo qua a Roma insomma il governo si spacca su autostrade i grillini dicono bisogno togliere la licenza buffagni arrabbiatissimo sulle linee di Battista leggo oggi su retroscena fatto da Gentili insomma la sostanza è che alla fine sapete come va a finire? che non faremo un investimento che sia uno questi geni faranno sì che gli investimenti gli unici che li possono fare in questo momento velocemente sono in autostrade non li faranno facciamoli fare dai sindacati oppure gli investimenti non facciamoli proprio perché se no disturbiamo la natura caos ANM dopo le intercettazioni oggi giustamente solo i giornali di centrodestra si occupano del fatto che i magistrati dicono che Salvini è una merda e che stanno facendo un'ingiustizia incredibile a portarlo a processo non se ne occupa nessuno oggi Sallustri non ce la fa proprio e dice toc toc Mattarella sei presidente del CSM forse alzano il ditino e dici ma che sta succedendo qua? cioè il presidente del CSM che sente i magistrati che dicono che Salvini è una merda ed è assurdo che loro comunque lo stiano rinviando a giudizio addirittura per sequestro di persone il presidente del CSM non dice nulla che non dicono nulla i magistrati di sinistra lo sapevamo ne parleremo anche domani a Quarta Repubblica ma che il CSM che il presidente del CSM non si indigni per questa roba qua è una cosa pazzesca che ci sta a fare? cioè io lo dico molto francamente non è che possiamo fare solo il discorsetto di fine anno e la commemorazione di Falcone e non pensare che in questo momento ora ora i magistrati hanno fatto alcuni magistrati questa indegna gazzarra nei confronti di un leader politico che era il ministro degli interni fino a prova contraria ma insomma siccome è di centrodestra chi se ne frega poi l'altra cosa divertente è il decreto rilancio che tale non è l'avete ormai capito tutto hanno escluso i professionisti oggi Marco Imariso racconta esattamente la follia di togliere 500.000 professionisti iscritti agli albi professionari al fondo perduto non si riesce a capire perché un corteggiano scusatemi un artigiano un commerciante un corteggiano è la crasi tra commerciante e artigiano però insomma vuol dire anche tutt'altro un commerciante, un artigiano una piccola impresa possono farlo i professionisti come dice oggi la Calderone fanno parte anche per l'Europa del Small Business Act cioè sono delle piccole imprese anche per i criteri europei invece in Italia i professionisti sono soltanto considerati da questa idea diciamo un po' di sinistra soltanto degli evasori fiscali i prestiti famosi che ieri Patuelli ci aveva raccontato due giorni fa il prestito dell'ABI 8 su 10 sono accolte cazzate era del tutto evidente oggi c'è una ricerca della Fabi che è il più importante sindacato di bancari italiani in cui la ricerca della Fabi dice che solo 50% sono state accettate accolte fino ai 25.000 euro e solo il 25% sono state accolte sopra ai 25.000 euro quindi non si tratta assolutamente di quelli i dati che ci davano nei giorni scorsi anche se questi dati li considero financo molto ottimistici rispetto a quello che ovviene sul decreto rilancio potrebbero esserci dice solo le 24 ore delle bonus vi ricordate delle case 110% quello che serve molto a poco lo vogliono un po' allargare e finalmente toglierebbero secondo loro le preclusioni per le seconde case perché oggi si poteva usare il bonus per le seconde case solo a patto che fossero abitazioni principali perché la seconda casa viene considerata una roba da ricchi quindi se non è abitazione principale vengono fottuti dalle ristrutturazioni ovviamente si tratta di una minchiata spero che la emendino così spera il sole 24 ore Giavazzi oggi parla della Fiat del prestito Fiat e l'ideona del liberale Giavazzi oggi su Corriere della Sera è un'ideona a cui non ci avevo pensato dice siccome si fonderà col Peugeot e Peugeot ha al suo interno il 6% dello Stato francese come andranno alla fine i francesi conviene che lo Stato italiano entri in Fiat beh insomma l'idea che lo Stato italiano entri in Fiat con i nostri soldi è una questione che io capisco strategicamente può essere importante ma la pippaggine dello Stato italiano nel difendere i nostri interessi non mi sembra che l'esistenza dello Stato italiano all'interno di Fincantieri rispetto all'accordo che ha fatto con San Nazer ha risolto il problema di Fincantieri parliamoci chiaro qua il problema non è lo Stato azionista di una società italiana ma il sistema Italia se riesce a difendere le proprie aziende con capitale o senza capitale anzi quando è nel capitale delle aziende abbiamo due disincentivi il primo che vuol comandare in quell'aziente vuol mettere qualche posto in Consiglio di Amministrazione il secondo che è totalmente inefficace nel difendere il sistema italiano quindi non è che se l'Italia si prende il 3% della Fiat riusciremo a salvare le aziende le imprese italiane e l'indotto italiano e le fabbriche italiane perché abbiamo il 3% dello Stato della Fiat abbiamo bruciato solo soldi dei contribuenti e state certi che quel 3% non varrà quanto vale il 6% francese Ruffini il capo dell'Agenzia delle Entrate il mio preferito da quando ha detto che era fatto per il nostro bene il ritardo di due anni il prolungamento di due anni degli accertamenti fiscali del periodo di accertamento fiscale del 2015 e lì ho capito che voglio dire diciamo come possiamo dire per non essere querelati però uno che mi spiega che in realtà ci vogliono 5 anni per fare gli accertamenti sul 2015 quindi nel 2020 sarebbero diciamo scaduti i termini per accertare i redditi del 2015 le possibili evasioni illusioni errori e lui ha avuto 5 anni per controllare e dice beh adesso ne prendiamo altri due fino al 2022 e uno dice ma sei matto perché hai due anni in più ah lo facciamo per il vostro bene vabbè quando lui ti spiega questa cosa solo lui e Villarosa vi spiegano questa cosa e la logica di questa cosa è assurda perché dice che se non vi dovessero perché l'Agenzia delle Entrate non ha potuto lavorare due o tre mesi quindi si sarebbero affastellati gli accertamenti cosa ovviamente vera ma che poteva portare a una proroga di due o tre mesi cioè gli stessi per i quali l'Agenzia delle Entrate si è fermata non due anni e questo lo capisce anche uno come Villarosa non capisco secondo me Ruffini lo sa benissimo ma è semplicemente un po' più smart oggi mi parla sulla stampa intervistato dall'ottimo ottimo Alessandro Barbera perché è uno di quegli intervistatori che io adoro anche perché non ne passa uno beh una che non ne passa a un certo punto Ruffini cita i Pink Floyd e tutta una serie di minchiate che viene alla testa e Barbera secondo me con il riso sotto i baffi dice bellissimo bellissimo esempio colto bellissima questa però e lo incalza la domanda molto simpatico devo dire Barbera anche no ve la devo dire questa roba di Pink Floyd che cita Ruffini costruire un sistema fiscale grazie al quale ognuno si senta parte di una comunità Ruffini ma fai le cose semplici ma non diciamo ste minchiate costruire un sistema fiscale grazie al quale ognuno si senta parte di una comunità ma chi dove l'ha letta sta roba ma manco Don Milani riusciva a dire che è un grandissimo riusciva a fare a costruire una frase così negli anni 70 sei veramente uscito dai Pink Floyd e dai coristi che non hanno beccato i soldi dei diritti d'autore ve la rileggo costruire un sistema fiscale grazie al quale ognuno si senta parte di una comunità è una frase straordinaria incorniciamola altro che quei cattivoni dell'agenzia delle entrate prima Befera Befera avrebbe mai detto costruire un sistema fiscale grazie al quale ognuno si senta parte di una comunità nel frattempo abbiamo un sistema fiscale che ci fa sentire sì parte di una comunità da merda scusatemi se mi permetto la comunità per il quale loro ti fanno gli accertamenti ti rompono le scatole l'onere della prova è invertito devi pagare un terzo cioè il solve è trepete e vorrei continuare su migliaia delle follie IVA sulle accise accise su prodotti che valgono poco al 65% fiscalità incasinata sì avete fatto la precompilata e su questo avete fatto bene ottimo fare la precompilata poi dopo se ti azzardi a toccare un dato della precompilata sei accertabile giustamente comunque insomma io quando leggo ste palle dell'agenzia dell'entrata mi diverto come un pazzo e poi ti rimandano le scadenze fiscali e non capiscono che poi le rifadenze vabbè insomma non ve lo sto neanche a dire perché la sapete quanto me e comunque dice due cose comunque condivisibili e cioè riordinare le norme esistenti cosa fuori di dubbio perché qua ci sono la normativa fiscale è un tale casino che su questo non si può non essere d'accordo con Ruffini poi il sistema ha perso della progressività e questo è un'idea che piace molto alla sinistra di renderla ancora più progressiva e quindi ci sarà una bella palla alzata per chi vorrà aumentare diciamo le aliquote perché così si risolve sempre questo tema ma della riforma fiscale di cui il titolo di prima pagina del giornale stampa parla non c'è neanche una riga cioè soltanto due o tre concetti vaghi ma d'altronde dell'agenzia delle entrate non mi sembra che abbia la potestà legislativa per poter fare una cosa di questo tipo direi che per oggi è tutto noi ci vediamo domani con Quarta Repubblica e ovviamente con la rassegna stampa come tutte le mattine ciao